E tu come lo sai? E perché chissà quante volte sei spazzolata, no? A papà! E mica l'ho chiesto a voi! Se ho fatto una domanda a mio figlio, la risposta la vorrebbe sentire da lui! Perché sei un'impiccione, effeminato, come tu madre! Del resto, sei nato in un'epoca dai smitolati, quello là con sempre le zinne le fori, a piedi del grano, a fare ginnastica. Una cosa sola ha fatto De Bono, che lui li mandava al confine. Invece Stalin li mandava in Siberia, col culo al freddo!